Il Brescia non sa più vincere, nonostante l'errore clamoroso arbitrale che ha in parte macchiato la prestazione del Brescia contro l'Ascoli c'è da sottolineare ancora una volta il grosso errore di Karacic che regala una punizione incredibile nel finale dalla quale scaturisce il gol del pareggio dei marchigiani. Un 1-1 che grida vendetta soprattutto perché il Brescia era riuscito a sbloccare una partita difficilissima dopo 45 minuti soporiferi nei quali i portieri erano risultati di fatto inoperosi il Brescia era passato in vantaggio con un colpo di testa di Aie su assist perfetto di Ndoi una partita nella quale il Brescia faceva emergere ancora una volta tutta la sua fragilità nel tenere il vantaggio Lezzarini si superava in un paio di circostanze con l'Ascoli che spingeva forte sull'acceleratore per cercare il pareggio ma tutto accadeva nel finale quando Nuomà anticipava il proprio diretto marcatore facendo scattare un contropiede. L'arbitro incredibilmente fisichava un fallo contro il Brescia senza nemmeno ammonire il difensore dell'Ascoli. Da lì poi si scatenava un'altra offensiva della squadra di Bucchi e arrivava il gol appunto del pareggio. Brescia che sale a quota 19 punti tante le polemiche, rimane in selezione stampa, fa parlare le immagini in sala stampa piuttosto che i protagonisti, ma di fatto rimane l'amaro in bocca. E adesso la sfida alla ternana degli ex Martella e Donnarumma.